Sappiamo che dagli anni 90 ad oggi la figura del guidatore di ambulanza è stata sottoposta nel tempo ad una trasformazione e per rispondere alle esigenze del servizio ha subito direttamente sul campo una continua evoluzione dell'attività, evoluzione però che non è stata accompagnata da un adeguato percorso formativo a livello nazionale e da un idoneo riconoscimento giuridico. Si è passati quindi dalla figura di autista di ambulanza a quella di autista soccorritore, che oltre a guidare il mezzo di soccorso deve sempre di più collaborare nella messa in sicurezza del luogo dell'evento e della stabilizzazione del paziente e altre mansioni che nel tempo hanno comportato una maggiore responsabilità. L'autista soccorritore è quindi una figura esistente di fatto ma non di diritto e non su tutto il territorio nazionale. Quello che vogliamo fare è quindi istituire la qualifica regionale di autista soccorritore, una figura professionale debitamente formata che possa garantire una prestazione di qualità e assicurare livelli di sicurezza efficienti a tutti i cittadini.